Un sedicenne di Chirignago è ricoverato in rianimazione in prognosi riservata all'ospedale di Mirano. Mercoledì, verso mezzogiorno, è stato colpito da un attacco cardiaco in via Palladio a Spinea, dove vive con la famiglia. Il ragazzo è uscito dal McDonald's con delle patatine e una bibita, è salito sul suo skateboard e ha percorso alcuni metri lungo questo marciapiede, poi si è accasciato a terra. Tre ragazzi, tra cui un corriere di HL, si sono accorti dell'accaduto e hanno chiamato i soccorsi, mentre sul posto è giunta una dottoressa del pronto soccorso che abita poco distante e che ha assistito alla scena per praticare il massaggio cardiaco al ragazzo. Poco dopo sono arrivati i medici del suo e gli agenti della polizia municipale che nel frattempo hanno avvisato i genitori del sedicenne. La scorsa settimana, mentre era in vacanza con loro e la fidanzata, il ragazzo aveva avuto una febbre alta per un paio di giorni circa, poi rientrata. Il tampone era risultato negativo, ma ora saranno i medici a stabilire se i due episodi possano essere collegati o meno tra loro. Le prossime ore saranno decisive per valutare le sue condizioni, soprattutto alla luce del fatto che dopo la caduta è rimasto senza ossigeno per alcuni secondi. Grazie a tutti.